Ora quello che manca è che qua io posso scrivere Qua posso scrivere nella password Non si dovrebbe vedere L'opzione sull'ingresso della variabile Qui c'è un'opzione che si può immettere All'input che vado a mettere qua Che è lo show tra apici E devo mettere che voglio vedere come show Il punto Questo è l'asterisco Vediamo se funziona Quando vado a scrivere qui non vedo E non visualizzo i caratteri Ma visualizzo solo gli asterischi Metto il più, il meno Le barre, visualizzo le barre Qui scegliamo quello che più ci aggrada Normalmente si usa l'asterisco A meno che non c'è qualcosa di più bello da mettere Però non funziona Dobbiamo farlo funzionare Per farlo funzionare ho trovato Qualcosa di molto semplice Da definire Almeno per non stare qui A fare una chiamata al database Database che non è stato ancora costruito Giusto per far funzionare il programma Per schermarlo In maniera semplice Da un accesso di chiunque Definisco una funzione Che metto appena sotto Qui appena sotto Definisco la funzione login Due punti a capo E io vado a dire Se username è uguale L'username get Quindi la funzione di presa della variabile Che adesso vi faccio vedere Perché altrimenti qua mi dà l'errore Deve essere uguale ad esempio Alla stringa E qui vado a mettere la mia stringa End password Deve essere uguale Anche qui la funzione get Che va quindi Va a prendere il contenuto Di quello che vado a mettere Dentro l'input Deve essere anche qui Uguale a qualcosa Se è uguale a tutto ciò Fai Ora qui per mandare a schermo qualcosa Qui limitiamoci solo A scrivere Nome Utente E password Corretta E basta Altrimenti Se non è corretto Else Due punti Vai a scrivere Un'altra roba Nome Utente Password Non corretto Non corretta Non corrette E vediamo se funziona Qui login Deve essere scritto così Ok La login Quindi la funzione login Qui ci sono tutte le parentesi Dovrebbe funzionare Giustamente Dobbiamo andargli Ad eseguire Tutto ciò viene eseguito Quando lo lancio Eccolo qua Col bottone Il bottone entra Deve eseguirmi anche La finestra Quindi il bottone 1 Deve eseguire il comando Login Eccolo qua Qua virgola Ma senza le parentesi Andiamo a vedere se è vero Mi scriverà qui nella console Ho messo che non deve esserci nulla Quindi Se non c'è nulla È corretto Se c'è qualcosa Non è corretto Per essere più giusti Diciamo Se ad esempio Qui vado a mettere Admin E qui vado a scrivere Admin Le minuscole Quindi Se vado a scrivere Admin Admin Dovrebbe funzionare Altrimenti Non dovrebbe funzionare Quindi Non funziona Un utente password Non corrette Se scrivo qualsiasi altro Si è perso lo show Qui Non corrette Perché si è perso lo show Ah Qui L'avevo cancellato Qui Ma pensate Ok Non è corretto Vedete che non è corretto Se scrivo Admin Non è corretto Perché devo metterlo anche sotto Se scrivo Admin Anche qua È corretto Quindi Entro solo Esclusivamente Se metto Se associo O comunque Se qui all'interno Della funzione Di login Ci sono Le password E l'utente Giuste Ovviamente Queste devono essere sostituite Dalla chiamata Al database Che adesso Non faccio Invece però Di printare Voglio definire Una finestrina Che è più carina Quindi Una finestra Che dice In teoria Quando entra Non dovrebbe dirmi Ok Però Vabbè La mettiamo Giusto per fare L'esercizio E quando Non funziona Mi deve dire Che non funziona Per fare questo Devo importare Qua sopra From Tickinter Import Il message box Fatto questo Posso definire Il message box Qui dentro Message box E gli vado a definire Ad esempio Lo stato Show info Quindi show info Della message box Gli vado a dire Il title Che sarà Il nome della finestra Che è Qui Adesso non gli metto Nulla Il messaggio Sarà Login Effettuato Con successo Qui magari Sarà Successo E quindi Andiamo a vedere Se funziona Quando lo mando Scrivo Admin Admin Entra Successo Login effettuato Con successo Quindi può star bene Un messaggio del genere Invece In caso di Message box Negativa Errato Qui ci può essere Scritto Utente Password Errate Controlliamo Quindi non metto nulla Utente Password Errate Se scrivo Admin Admin Login effettuato Con successo Ovviamente Normalmente Qui viene dato L'invio Ma l'invio Non funziona Perché deve essere Associato E non so come si fa Devo ancora Studiarlo Se faccio Cancella Non funziona Quindi andiamo Anche a definire Un cancella Che abbiamo messo Qui Allora Questa funzione La mettiamo Appena sopra La funzione Di bottone Quindi appena sotto Al bottone Sopra il bottone Facciamo funzionare La funzione Di login Appena sopra Al bottone 2 Che sarà il bottone Cancella Andiamo a definire Il cancella Cancella Con due punti Andiamo a definire Una variabile Di status Del bottone Status Che definiamo Con Messagebox Punto In questo caso Andiamo a prendere L'ask Yes No Quindi va a chiedermi L'ask Yes No E mi va a chiedere Mi va a quindi A definire La funzione Sempre con title Andiamo a definire Il messaggio Finestra Tra È una stringa Quindi Finestra Cancella Operazione E il messaggio Sarà Chiudere La finestra Quindi Qui Gli esce Uno status Vediamo se funziona Funziona Se clicco Cancella Non viene definito Se clicco Ok Viene definito Nello status Adesso ci vuole Il controllo Se status È uguale A true Cosa fai Se è uguale A true Quindi se viene Schiacciato Comunque Gli viene detto Yes No Gli viene dato Yes Che cosa fai Distruggi la finestra Se invece Else Due punti Messagebox Show warning Col title Che sarà Messaggio Di errore E sarà Il message Sarà E allora Non schiacciare Cancella Chiuso E vediamo se funziona Non funziona Perché non l'ho associato Al comando Del bottone Bottone Wind Command Cancella Virgola Eccolo qua Finestra Cancella Operazione Magari Due punti Dove che l'ho scritto Finestra Cancella Operazione Qua ci mettiamo Due punti Vuoi chiudere la finestra Sì No Quindi sì Sarà true No Sarà false Sì Fa qualcosa Distrugge la finestra Se invece do il no No E allora Non schiacciare Non schiaccia Cancella A meno L'accendo sulla Non schiaccia Cancella Messaggio di errore Anche qui E maiuscola E magari Due punti Circa Andiamo Cancella Finestra Cancella Operazione Due punti Vi chiudo la finestra Se do il No E allora Non schiaccia Cancella Ci mettiamo Io pure i punti Esclamativi Ignorante Che non sei altro Non potrei mai fare Il programmatore Entra Utente Passo le rate Cancella Cancella Allora Sul cancella È tutto a posto Sull'entra Deve fare il controllo Ora Io giusto per Non sapere Né leggere Né scrivere Admin Admin Non me lo ricorderò mai Paolo Paolo Sì Quindi Il mio utente Entra Con Paolo Paolo La mia finestra Di login È Paolo 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 Entra E mi dice Effettuato con successo Evito di dare Questa spiegazione All'utente Ma lo porto Direttamente Dentro La nuova finestra Che ancora Mi devo inventare Però Diciamo che È un piccolo Programmino iniziale Per poter Entrare A fare Qualc'altra cosa Come vedrete Questa spiegazione Questa spiegazione